In che modo le nuove tecnologie stanno modificando la relazione con il cliente? I clienti sono sempre più abituati a usare telefonia mobile, applicazioni di messaggistica nella loro vita quotidiana e quindi si aspettano che anche il rapporto con le banche usi questi nuovi canali digitali, questi nuovi canali innovativi. Soprattutto hanno interesse a migliorare il loro rapporto, la facilità con cui ottengono le risposte ai loro bisogni. Qual è l'esperienza di Vivocia nel settore bancario? Vivocia è una realtà che sul mercato pone una serie di soluzioni legate all'ingaggio col cliente sui canali online, quindi siti web, mobile application e abbiamo una serie di referenze sia in Italia che nei mercati europei con le più grosse banche, soprattutto sulla filiera delle banche dirette e le banche digitali. Stiamo sviluppando progetti legati a quello che è il mondo delle chat, dei chatbot, della video chat e quindi la possibilità di replicare l'esperienza di filiale in un ambito digitale dove l'operatore, in quel caso il consulente, il remote expert, è in grado di assistere il cliente anche su processi complessi usando tecnologie di videocomunicazione e di realtà in collaboration. Quali risultati state ottenendo con questi progetti? Sicuramente quello di aiutare le banche a spostare sul digitale alcuni processi che normalmente erano gestiti sulla finale tradizionale e ampliare quelle che sono le opportunità per il cliente entrare in contatto con la banca. Da un lato parliamo di processi di efficientamento e quindi di ottimizzazione dei costi ma sicuramente anche in termini di efficacia aggredire fasce di mercato che prima erano difficilmente raggiungibili che grazie alle tecnologie digitali oggi diventano un mercato aggredibile. Le banche sono ricettive rispetto a queste applicazioni? Assolutamente sì, diciamo che siamo partiti con le banche quelle dove era più facile, quelle dirette, quelle online che sicuramente fanno del loro value proposition, la verità di questi canali ma poi vediamo che anche le banche più tradizionali, quelle più grosse, si stanno modendo rapidamente su questo genere di applicazioni. Secondo voi quali saranno i prossimi sviluppi nel customer care bancario? Secondo noi uno degli elementi fondamentali dei cambiamenti nel mondo customer care per il settore bancario sarà quello di diventare più proattivi nell'offrire servizio al cliente e quindi arrivare al cliente al momento giusto con l'offerta giusta sul canale che il cliente apprezza meglio, quindi di gestire un journey più coerente con quelle che sono le aspettative del cliente. Il cliente apprezza queste modalità di relazione? Assolutamente sì, anche qui noi lavoriamo in diversi settori, vediamo che trasversalmente in varie industrie il cliente apprezza la facilità di contatto, apprezza la disponibilità e quindi quando gli si offrono canali innovativi, facili da usare, semplici e comuni alla loro esperienza quotidiana, questi vengono apprezzati, lo vediamo in molti clienti che hanno introdotto metriche legate al net promoter score. Faccio un esempio, grossa parte dei nostri clienti che usano la live chat sul sito sia in vendita che in assistenza ai non banking o mobile banking riscontrano che la chat offre dei benefici legati sia all'efficientamento, perché la produttività di un operatore tende a crescere, ma soprattutto in termini di apprezzamento con livelli di net promoter score molto elevati.